International Fashion Network introduces Allora qui con noi a Raimondo, è stato bloccato da me perché ho visto Ciao, benvenuto, ho visto questo stile molto interessante, siamo ad Alta Roma quindi chi meglio di te può raccontarci che cosa rappresenta Alta Roma per l'Italia ma anche per te che sei un giornalista Dunque Alta Roma a me piace molto perché ci sono delle particolari attenzioni a nuovi talenti quindi ci sono molte scuole, accademie eccetera che presentano i lavori degli studenti e secondo me sono molto interessanti perché praticamente le prime collezioni che loro partoriscono nella vita comunque si portano dietro i primi 20 anni di vita e quindi c'è molto cuore, molta anima che è una cosa che a me interessa molto diciamo questo lato emozionale della moda Hai seguito molto Alta Roma in questi ultimi anni? Sì, diciamo gli ultimi due anni sono stato sempre presente e ho trovato delle cose molto interessanti